Quello che riguarda me, che riguarda il mio futuro, non interessa a nessuno. A me interessa il futuro dell'Italia e posso dirlo tra noi? Posso dirlo tra di quanto ci sia nessuno? Questo refrenio si vince e si vince bene. Si vince e si vince bene. Abbiamo bisogno di un'altra cosa che ci sia parlato di tutti, non è il mio refrenio. Siamo partiti da Firenze per cambiare l'Italia. O che vuoi missione che vince in questo mondo? Grazie a tutti.